La Toscana dovrà fare a meno di 148 milioni di euro. È una cifra consistente, è una cifra che mette in difficoltà le finanze regionali perché dovremo andare a ricontrollare tutte le voci di bilancio. È un atteggiamento scorretto, cioè Renzi promette soldi e poi li toglie mettendo in difficoltà ulteriore come se non ci fosse già della difficoltà nel gestire l'ente lo mette ancora in difficoltà e la regione toscana non dice niente, si adatta e taglia là dove intenderà tagliare. Quindi attenzione, vi comunicheremo i tagli che farà la regione.